giovedì 11 aprile questo è liscio e macchiato buongiorno maurizio augustoni buongiorno andrea buongiorno marco prima di cominciare vi ricordo che trovate questo podcast anche su spotify basta digitare liscio e macchiato e potete iscrivervi gratuitamente alla pagina di liscio macchiato su spotify cominciamo ancora una volta dalla politica giudiziaria questa mattina perché il corriere del ticino riferisce di questa notizia di cui insomma si mormorava parecchio nelle ultime ore giustizia qualcosa si muove anche in consiglio di stato in realtà era atteso ieri che il governo licenziasse questa mini riforma riforma non so chiamatela come volete poi in realtà è rimasta ancora nel gremio governativo per approfondimenti di cosa si tratta in sostanza il dipartimento delle istituzioni avanzato delle proposte che vanno a toccare anche il sistema di nomina dei procuratori non si sa esattamente in che direzione si ipotizza che venga insomma colta in qualche misura l'iniziativa famosa del plr presentato da marco bertoli che prevede che il gran consiglio elegga solo la direzione del ministero pubblico e poi la direzione del ministero pubblico assuma tra virgolette i e i procuratori si faccia la squadra sempre con la commissione di esperti a supporto eventualmente consiglio magistratura ma siamo nell'ambito delle speculazioni perché nulla è uscito pubblicamente in ogni caso maurizio come leggi questa notizia ma che il consiglio di stato si è chiamato a formulare delle proposte di modifico di intervento sul sistema giudiziario in generale questo è risaputo da anni c'era un cantiere giustizia 2018 che nel frattempo non si capisce in che porto delle nebbie si sia perso c'è tutta una serie di atti parlamentari ci sono delle richieste da parte del procuratore generale di avere un potenziamento dei mezzi quindi che il consiglio di stato debba fare qualcosa è abbastanza pacifico diciamo che un messaggio di aumento anche importante dei poteri del procuratore generale da parte del consiglio di stato in questo momento mi sembrerebbe sarebbe sembrato la tempistica un po particolare ecco questo momento il procuratore generale sta conducendo l'inchiesta su un aspetto estremamente delicato anche dal punto di vista istituzionale e quindi un messaggio di questa tempistica secondo me non sarebbe evitabile ecco la commissione ha già questi questi atti parlamentari sul suo tavolo lo può fare e poi quando questa inchiesta sarà terminata corso di stato faccio pure i messaggi che vuole ma in questo momento bisogna avere un po di così a tener conto anche delle tempistiche cioè fai per dire che il caso gobbi in questo momento praticamente impedisce tra virgolette o comunque sconsiglia diciamo al governo di legifer di proporre riforme in ambito giudiziario diciamo così intanto che il procuratore generale sta indagando su un caso che coinvolge ancorché non come imputato il capo del dipartimento delle istituzioni una proposta del dipartimento delle istituzioni che propone di aumentare in modo massiccio i poteri del procuratore generale probabilmente non era tempistica ideale al di là del merito della proposta e pensi che il governo abbia fatto un po questa valutazione ti lascia intendere la questo non lo so può darsi che ci siano anche nel merito alcune alcune proposte che non siano convincenti fino in fondo però se avesse fatto questa riflessione non mi sorprenderebbe a qualche misura la condividere anche allora andiamo avanti marco perché sulla regione c'è un altro intervento se l'ex procuratore pubblico fabrizio e genshwiler che sempre di nome si occupa da quale sistema prevede che i magistrati siano eletti di gran consiglio cioè dal potere legislativo il che secondo lui pone un problema rispetto al principio della separazione dei poteri anche perché tende a prestarsi e lo abbiamo visto manovre partitiche strumentali a scapito della valutazione oggetti oggettiva degli aspiranti quindi poi dici l'alternativa si può pensare all'azione tramite voto popolare oppure meglio alla creazione di una commissione di esperti composta da giuristi e altri specialisti e magistrati docenti universitari tecnici risorse umane eccetera precedenti dal consiglio di magistratura la commissione avrebbe il compito di esaminare e scegliere con decisione vincolante i migliori tra i candidati attraverso prove scritte orali test e quant'altro senza lasciarsi influenzare da preconcetti di qualsiasi genere l'unico modo di accedere al concorso per i posti vacanti dovrebbe essere la presentazione della candidatura alla commissione da parte degli interessati prescindendo da presentazioni partitiche la commissione dovrebbe tra l'altro secondo genshwiler avere un compito di vigilanza e consulente sui magistrati in calico questo è il la proposta che ricalca un po' altre parti in questa direzione l'ultima anche quella direi del dell'avvocato stauffer che abbiamo intervistato l'altro giorno allora maurizio questo ci sono più di di un ex procuratore che in questo momento stanno formulando delle delle proposte sul sul sistema di nomina loro stessi sono stati nominati col sistema di nome in attuale non penso che possano dire nella loro attività di essere stati influenzati dalla della politica anche perché la politica interviene in un'unica fase del processo di nomina ed è quello della scelta tra i candidati ritenuti idonei della commissione di esperti fatta questa nomina la politica sparisce e tocca il consiglio della magistratura vigilare affinché i procuratori pubblici facciano bene il loro il loro lavoro sul sistema di nomina dei procuratori pubblici allora l'elezione popolare non è prevista praticamente da nessun cantone salvo credo il canton ginevra che però nomina per elezione popolare solo il procuratore generale perché poi il procuratore generale a sua volta nomina i suoi collaboratori quindi giusto che sia investito di una legittimazione democratica importante non vengono nominati dal 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 popolo anche perché il procuratore generale di per sé non è un giudice è una parte all'interno del del processo penale che rappresenta appunto punto l'accusa in alcuni casi viene nominato dal consiglio di stato in alcuni cantoni in altri cantoni viene nominato come da noi dal parlamento la proposta di farlo nominare da una commissione composta da giudici o giudici assomiglia molto ai sistemi di cooptazione che ci sono in alcuni paesi ad esempio l'italia e proprio l'esempio italiano dimostra che non è che la magistratura sia il riparo da correnti da gruppi di interesse da gruppi di giudici che la pensa in un certo modo non necessariamente in un modo politico ma magari in un modo di intendere la giustizia in particolare la giustizia penale quindi il rischio delle correnti mi sembra addirittura più grave del rischio che il parlamento tenga conto anche della sensibilità dei diversi candidati mi sembra ancora più discutibile il fatto che una commissione composta da ex giudici o peggio ancora da giudici ancora in esercizio faccia da baglia ai procuratori pubblici procuratori pubblici vengono nominati dopo un concorso hanno una formazione accademica ricevono anche una paga senz'altro decorosa e probabilmente molto più che decorosa e non credo che sia giustificato che lo stato li metta a disposizione una baglia che li consulti su quello che devono fare oltretutto con dei rischi giuridici non indifferenti perché se poi il consiglio sbagliato mi piacerebbe sapere di chi è la responsabilità se il procuratore pubblico segue il consiglio sbagliato quindi credo che la riflessione sia giusto farla soprattutto in quelli che sono le verifiche che deve fare la commissione di esperti prima di pronunciare l'igualità di un candidato noi come gran consiglio già nel 2017 abbiamo detto che probabilmente questo lavoro l'ha fatto in modo più approfondito ma penso che questa corsa inventarsi i sistemi alternativi quando in svizzera le cose funzionano più o meno come in ticino non sia non sia giustificato e crea solo un alone di sospetto sulla qualità della magistratura ticinese che non mi sembra non mi sembra faccia bene la giustizia brevemente però maurizio il tema è è che non so emanuele stauffer dice no bisogna intervenire perché la giustizia in ticino è un terno all'otto perché abbiamo dei magistrati incompetenti perché i processi perché addirittura diceva l'altro giorno qui c'è ci sono conclamati casi di impunità ecco emanuele stauffer che che penalista e quindi probabilmente con assi sicuramente conosce la situazione meglio meglio di me magari anche ragione che in alcuni casi procuratori pubblici non sono all'altezza del loro ruolo ma bussa alla porta sbagliata la vigilanza sull'operato dei magistrati visto che siamo in un sistema democratico di separazione dei poteri non è del gran consiglio è del consiglio della magistratura quindi proprio per evitare questo alone di sospetto che voleva va a toccare tutti e soprattutto va a toccare i magistrati non sono pochi che fanno bene il loro lavoro emanuele stauffer che avvocato segnali questi procuratori magari l'ha già anche fatto ma segnali questi procuratori che a suo dire non fanno bene il loro lavoro al consiglio della magistratura e se il consiglio della magistratura non interviene lo segnali alle autorità di vigilanza ulteriore ma la politica non può e in particolare il gran consiglio non può farsi carico del fatto che un procuratore pubblico una volta nominato a un certo momento smetta di fare il suo lavoro o non lo faccia bene casomai possiamo al momento della del rinnovo dopo dieci anni non più rileggerlo ma il gran consiglio non è il tribunale d'appello o il tribunale federale dei procuratori pubblici e dei magistrati che non fanno il loro lavoro per lo sistema democratico e con se la magistratura che deve occuparsi di questo tema corriamo marco fiorenzo ladò il personal trainer della polizia assodiata del presidente del centro il tuo presidente maurizio a matrioska l'altro giorno l'altra sera cosa ha tirato fuori un documento che è questo che vi mostro perché non è pubblico nel senso che un documento si trova soltanto nelle pieghe dell'amministrazione essendo un concorso interno allora sostanzialmente si cerca un collaboratore collaboratrice scientifica a tempo parziale 50 per cento per la polizia cantonale per assicurare tutta una serie di compiti pianificazione svolgimento dei test fisici garantire la promozione attività sportiva in polizia fino al pensionamento offrire respiranti alle scuole polizie partecipanti altre scuole un programma attività sportiva promuovere il mantenimento di una condizione fisica adeguata eccetera eccetera insomma un personal trainer ha definito il presidente del centro fiorenzo da doma di oscar dicendo è un insulto ai cittadini in questo momento di crisi finanziaria dello stato maurizio diciamo che il gran consiglio già nel 2013 aveva invitato il consiglio di stato a una certa prudenza nelle sostituzioni dei dipendenti e di vigilare affinché l'amministrazione che negli ultimi anni comunque è cresciuta in modo importante fosse così considerata nello sforzo di contenimento dei costi a cui è chiamato il consiglio di stato e questa nomina oltretutto per uno stipendio che se non sbaglio va fino a 140 mila franchi alcuni della carriera oltre per un compito veramente importante mangiamo quella la forma fisica dovrebbe essere qualcosa che riguarda innanzitutto gli obblighi personali di una persona che svolge questa funzione è un po' curioso ecco penso che in questo momento dove si va a parlare o sì 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 di tagli e sussidi di casa malati di tagli negli istituti per disabili di rinuncia ad assumere infermieri o personale alla clinica socio psichiatrica cantonale quindi di tutte delle persone più fragili questa assunzione un minimo di interrogativi li suscita e anche per questo motivo che noi abbiamo chiesto richiederemo alla commissione della gestione che ha l'alta vigilanza su questi aspetti di chiarire un po' meglio qual è la politica di assunzioni del consiglio di stato non solo per questo caso ma anche per altri casi in cui magari si procede addirittura delle nomine senza concorso adducendo motivi di urgenza che così convincono solo fino a un certo punto andiamo ai nostri amici del federalista amici e partner del federalista che hanno pubblicato un approfondimento sulla sentenza della cedu che ha condannato la svizzera di cui abbiamo ampiamente parlato ieri il federalista punto ch il sito dove potete abbonarvi e marco di cosa si tratta allora fanno un giro di opinioni quindi insomma con un appiglio abbastanza critico nei fronti di questa sentenza della cedu dice vabbè i verdi naturalmente l'hanno presa benissimo come parlamentare verde tre tachisino tutti però hanno presa bene qui è federalista questa storica sentenza non solo il senatore fabio regazzi che si aspetta una pioggia di atti parlamentari che andranno a infrangersi contro la saggezza del pragmatismo elvetico ma anche un ecologista come paolo rossi ritiene che la via giudiziaria non sia quella giusta priorità alla democrazia contro il rischio di una dittatura ecologista e citano anche un ex giudice europeo come carl baudenbacher che dice non fa notare che la sentenza cade a pennello per far naufragare le trattative in corso con un euro per vista di un accordo che assoggetterebbe il fiero popolo svistro al giudice europei inappellabile ecco questo è un po il punto no c'è questa intromissione in funzione dei giudici di strasburgo nella politica climatica della confederazione rischia poi di ribaltarsi negativamente quando si andrà a votare sui giudici stranieri ma prima di tutto devo fare i complimenti a tutte queste persone che sono riuscite a leggere a capire una sentenza di 260 pagine in così poco tempo detto questo la convenzione europea di diritto dell'uomo ha avuto e ha un ruolo molto importante dal punto di vista delle garanzie procedurali e giudiziarie quindi il diritto di essere sentito il fatto dei giudici indipendenti anche svizzera ha avuto degli effetti sicuramente positivi per le garanzie dei cittadini che sono sotto processo queste sentenze se ho capito in modo corretto i riassunti sono stati fatti dalla stampa si intromette anche nel merito del diritto cioè nel contenuto non solo la procedura non solo il fatto che lo stato deve rispettare i diritti del cittadino quando lo processa o quando fa un giudizio ma addirittura sulle sul contenuto delle politiche di un paese e questo mi sembra molto rischioso perché i giudici almeno nella concezione svizzera applicano le leggi non si mettono a discutere se quelle leggi siano giuste o sbagliate tanto è vero che la svizzera ha sempre rifiutato secondo me a giusto titolo di inserire una corte costituzionale che quella che c'è nella maggior parte degli altri stati dove si va a sindacare quello che è stato fatto dal parlamento perché da noi c'è già qualcuno che può sindacare sulle leggi che fa il parlamento e si chiama popolo quindi se il popolo accetta una legge che è stata votata dal parlamento secondo i crismi democratici i giudici devono limitarsi ad applicare questa legge e che queste sentenze che magari rispondono anche un'altra logica di questi giudici che non vengono tutti dalla svizzera anzi per la maggior parte vengono da sistemi giuridici esteri dove questo controllo dei giudici c'è anche perché spesso in questo paese non c'è il controllo del popolo sull'operato di governo parlamento vanno dal mio punto di vista molto al di là di quello che il popolo quando ha deciso di aderire alla convenzione europea dei diritti dell'uomo si poteva aspettare come intromissione nella sua attività politica perché non sembra come chiedono marchesi e quadri ma mi sembrano delle esagerazioni anche perché ripeto la cede ha avuto anche degli esperti molto positivi per il per il nostro diritto per il nostro sistema giudiziario anche perché queste sentenze nessuno ci obbliga a attuarle o ne prendiamo atto però non è che domani la svizzera o il popolo svizzero sarà obbligato ad adottare delle norme ecologiche o di altro tipo perché ce l'ha detto l'aceto restiamo sovrani il discorso dei giudici stranieri e giudici esteri è molto diverso riguarda quelli che sarebbero delle delle corti arbitrali nei litigi tra unione europea e svizzera su degli accordi bilaterali e questo lo posso già anticipare anch'io sono molto contrario a che un giudice straniero oltretutto se ho capito bene nominato con un aspetto preponderante dall'unione europea si metta a giudicare il nostro diritto ma la cedu è un'altra è un'altra cosa allora diciamo perché riteniamo che sia completamente completamente superto visto che poi quelle sentenze che non ci piacciono non ci atteniamo però mi sembra una reazione un po' sproporzionata a una sentenza che ripeto anche dal mio punto di vista va un po al di là di quelli che sono i loro compiti allora per finire vi voglio raccontare la storia di cui abbiamo già parlato nei mesi scorsi del latitante tunisino che vedete sul blick che ci ritorna su questa storia perché l'uomo di 35 anni è il fuggitivo più sfrontato della svizzera come scrive il quotidiano di zurigo talmente sfrontato da telefonare appunto al blick per rilasciare un'intervista però prima ricordiamo chi è è in fuga da ottobre del 2022 quando riuscì a scappare da un veicolo carcerario a darao probabilmente fuggendo verso la francia dalla latitanza poi continuato a postare foto e video sui social facendosi beffa della polizia del cantone argovia delle nostre autorità che da allora gli danno la caccia l'uomo è stato condannato due volte anche per traffico di droghe ed è stato processato per reati di violenza anche ai danni dei suoi familiari poco prima della fuga era stato espulso dal nostro paese nell'intervista rilasciata al blick si dice vittima del sistema di asilo svizzera purtroppo ricevevo solo 7 franchi al giorno la svizzera non mi ha dato abbastanza soldi nega di essere un uomo violento e dice di aver commesso solo piccoli errori dice di sentirsi tranquillo nel non venire acciuffato pur non volendo rivelare dove si trovi attualmente però afferma di essere stato dopo la fuga quattro volte in svizzera maurizio non mi sembra una persona che dobbiamo perdere molto tempo a riacciuffarlo cioè se sta lontano dai nostri confini non ne sentiremo la la mancanza a parte le battute mi sembra un po' particolare questa equazione per cui se una persona non ha dei mezzi per forza delinquere mi sono soprattutto irrispettoso verso le tante persone che fanno fatica e che non si mettono a trafficare droga a rubare o a commettere altri altri rati però ripeto finché non viene svizzera penso che la polizia argoviese può avere casi più importanti da fare che far tornare nei nostri confini questo soggetto che probabilmente ha anche altri tipi di problemi almeno da quello che vedo tra cui una paralisi al dito medio quindi lasciamo lasciamolo in francia dove probabilmente si sentirà più su andrà l'aceto a rivendicare il denaro perduto faremo un dovere di restituirlo grazie mille maurizio per essere stato con me questa mattina e noi marco ci ritroviamo domani per l'ultima puntata della settimana buona giornata di sole finalmente ciao ciao a tutti